All'interno del protocollo bitcoin c'è scritto chiaramente che non potranno mai esistere più di 21 milioni di bitcoin. Ebbene, la popolazione terrestre è composta da oltre 7 miliardi di persone, quasi 8, ovvero 300 volte più dei 21 milioni di bitcoin. Allora a questo punto la domanda potrebbe sorgere spontanea, ma ci saranno sufficienti bitcoin per tutti? Oppure arriveremo ad un punto in cui potranno possederli solo poche persone? Ricordatevi che praticamente il limite di cui vi ho parlato prima significa che al mondo non potranno mai matematicamente esistere più di 21 milioni di persone che possedono più di un bitcoin. Ebbene, dovete sapere che in realtà un bitcoin, ogni singolo bitcoin, è frazionabile in 100 milioni di parti, ovvero esiste, non come negli euro in cui esistono i centesimi di euro, Nei bitcoin esistono i centomilionesimi di bitcoin, che vengono chiamati in gergo satoshi. Questo significa che per ogni bitcoin ci sono 100 milioni di satoshi. Quindi se moltiplichiamo i 21 milioni di bitcoin per i 100 milioni di satoshi che stanno all'interno, diciamo così, di ogni bitcoin, otteniamo un numero stratosferico, ovvero 2,1 milioni di miliardi di satoshi. Quindi la popolazione terrestre è composta da 7 miliardi di persone, quasi 8, probabilmente arriverà anche a 9 o forse a 10 miliardi, ma di satoshi in circolazione ce ne saranno 2 milioni di miliardi. Quindi ce ne saranno per tutti. E vi dirò di più, satoshi e bitcoin sono la stessa cosa, solo che viene espressa, diciamo così, con due unità di misura diverse. Un po' come il chilogrammo e il grammo, misurano la stessa cosa, solamente con due unità di misura diverse. Ebbene, la differenza tra satoshi e bitcoin è solamente che un bitcoin vale 100 milioni di satoshi. Ve lo dico in altri termini. Chi possiede bitcoin possiede anche satoshi e chi possiede satoshi possiede anche bitcoin. E se voi avete, che ne so, 2 bitcoin e mezzo, significa che avete 250 milioni di satoshi. E se voi avete solamente, che ne so, 50 milioni di satoshi, significa che avete 0,5 bitcoin. Sono la stessa cosa, solamente espressa con unità di misura diverse. Pertanto, il fatto che di bitcoin non ce ne saranno mai in circolazione più di 21 milioni, non è affatto un problema, perché al posto, diciamo così, che usare bitcoin e si possono usare i satoshi, sono la stessa cosa, di satoshi ce ne sono più di 2 milioni di miliardi, e quindi non abbiamo nessun problema a distribuire satoshi in giro per il mondo a chiunque. Per farvi capire meglio, confrontiamo bitcoin con euro. Però non il numero di bitcoin in circolazione con il numero di euro in circolazione, ma il numero di satoshi in circolazione con il numero dei centesimi di euro in circolazione, perché in genere gli euro vengono frazionati fino al centesimo. Si può soffrazionarli anche di più, anche al millesimo, al decimillesimo, ma in genere l'unità minima di euro che circola, soprattutto ad esempio proprio in moneta fisica, è il centesimo. Ebbene, di euro in circolazione ce ne è qualche migliaia di miliardi, anzi, probabilmente decine di migliaia di miliardi, diciamo tra 10 e 20. Ebbene, se moltiplichiamo questa cifra per 100, scopriamo che di centesimi di euro ce ne sono in circolazione circa un milione di miliardi. Di centomilionesimi di bitcoin ce ne possono essere in circolazione al massimo 2,1 milioni di miliardi. Quindi più o meno la quantità di centesimi di euro in circolazione ora è paragonabile alla quantità di centomilionesimi di bitcoin in circolazione ora, perché non siamo ancora arrivati ai 21 milioni di bitcoin, ma ci siamo vicini. Infatti, fino ad oggi sono stati creati 18 milioni e 470 mila 593 bitcoin, che corrispondono a 1,8 milioni di miliardi di satoshi. Quindi la quantità di satoshi in circolazione al giorno d'oggi è paragonabile alla quantità di centesimi di euro in circolazione oggi. Visto che giustamente nessuno si è mai chiesto se ci sono abbastanza centesimi di euro in circolazione, perché la risposta è ovviamente sì, questa domanda non ha senso nemmeno per quanto riguarda i satoshi, cioè i centomilionesimi di bitcoin. Poi ricordatevi che se avete ancora dei dubbi o delle domande potete sempre scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Inoltre, ricordo che qui in alto a destra trovate, se volete, i link per supportare questo mio canale via Patreon. Un saluto, ciao!